benvenuto ora sdraiati con le braccia lungo i fianchi oppure mettiti nella posizione più comoda per te per prepararti a caricare di energia le varie zone del corpo comincia lasciando che il tuo respiro diventi più calmo e profondo rilassati e ad ogni respiro lasciati andare ad un legge stato di trance mentre le tue tensioni scivolano via dolcemente proprio come acqua che scorre ad ogni respiro ora durante l'inspirazione immagina di assorbire energia solare calda e dorata dalla sommità della testa e durante l'espirazione vedila espandersi in tutto il tuo corpo illuminandolo dall'interno continua a farlo per un minuto grazie a tutti grazie a tutti molto bene ora focalizza la tua attenzione sui tuoi piedi dalla caviglia fino alle punte delle dita prendi una lunga inespirazione riempiendoti di aria completamente e poi trattieni il respiro durante l'apnea immagina i tuoi piedi caricarsi di energia solare luminosa e vibrante vibrante vedi li scintillare sia all'interno che all'esterno e quindi espira lentamente poi fai una lunga inespirazione riempiendoti di aria completamente e trattieni di nuovo il respiro vedi le tue ginocchia vedi ora i tuoi stinchi e i polpacci fino al ginocchio caricarsi di energia e vibrare luminosi e quindi espira dolcemente poi inspira profondamente e trattieni di nuovo vedi le tue ginocchia vedi le tue ginocchia caricarsi di energia solare calda e dorata e scintillare emanandola intorno a loro e di nuovo espira lentamente poi fai una lunga inespirazione e trattieni di nuovo il respiro vedi le tue cosce caricarsi di energia vibrando e scintillando sia internamente che all'esterno e quindi espira dolcemente poi inspira di nuovo profondamente e di nuovo trattieni il respiro vedi il tuo addome dal linguine fino a sopra l'ombelico caricarsi di energia solare e vibrare luminoso e di nuovo espira lentamente ora fai di nuovo una lunga inespirazione e di nuovo trattieni il respiro vedi il tuo plesso solare dall'ombelico fino alla punta dello sterno caricarsi di energia luminosa e vibrare scintillando e quindi espira dolcemente poi inspira profondamente e trattieni di nuovo il respiro vedi il tuo torace dallo sterno alla gola caricarsi di energia solare calda e luminosa scintillando e vibrando e di nuovo espira lentamente poi una lunga inespirazione e trattieni di nuovo il respiro vedi la tua intera colonna vertebrale riempirsi di energia dorata e luminosa vibrando e scintillando sia internamente che all'esterno e quindi espira dolcemente poi inspira profondamente e trattieni di nuovo vedi le tue mani vedi le tue mani fino ai polsi caricarsi di energia solare e vibrare luminose e di nuovo espira lentamente poi una lunga inespirazione e trattieni di nuovo il respiro vedi i tuoi avambracci dai polsi fino al gomito caricarsi di energia dorata e scintillare e quindi espira dolcemente poi inspira profondamente e trattieni di nuovo vedi le tue braccia dai gomiti fino alle spalle vedi le tue mani fino alle spalle e di nuovo e di nuovo espira lentamente poi una lunga inespirazione e trattieni di nuovo il respiro vedi la tua gola caricarsi di energia solare e scintillare sia dentro che fuori e quindi espira dolcemente poi inspira profondamente e trattieni di nuovo vedi il retro della tua testa e la parte posteriore del cervello caricarsi completamente di energia calda e dorata scintillando e di nuovo espira lentamente poi una lunga inespirazione e trattieni di nuovo il respiro vedi la tua bocca caricarsi dentro fuori e intorno di energia vibrante e luminosa e quindi espira dolcemente e poi espira profondamente e trattieni di nuovo vedi i tuoi occhi la tua fronte le orecchie e la parte anteriore del cervello caricarsi di energia solare e vibrare scintillando e di nuovo e di nuovo espira lentamente poi una lunga inespirazione e trattieni di nuovo il respiro vedi la parte superiore della testa e del cervello caricarsi dentro e fuori di energia luminosa e vibrante e quindi espira dolcemente e continua a respirare normalmente per qualche istante focalizza ora la tua attenzione su un punto grande come un pinolo al centro della tua testa la tua ghiandola pineale fai un profondo respiro e trattieni vedi la ghiandola pineale caricarsi di energia solare e scintillare ora espira dolcemente e vedi la ghiandola pulsare distribuendo questa energia in forma di ormoni e sostanze chimiche in tutto il tuo corpo respira normalmente ad ogni inespirazione vedi la ghiandola pineale riempirsi di energia solare ad ogni espirazione vedi la pulsare e vibrare più volte distribuendo in tutto il tuo corpo ormoni e sostanze utili alla salute e al ringiovanimento ad ogni inespirazione vedi la ghiandola pineale riempirsi di energia solare ad ogni espirazione vedi la pulsare e vibrare più volte distribuendo in tutto il tuo corpo ormoni e sostanze utili alla salute e al ringiovanimento continua per tre minuti 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 Grazie a tutti. 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 Molto bene. Ora il ringiovanimento pranico è terminato. Se possibile riposati per qualche minuto fino al termine della musica, lasciando che il tuo corpo fisico assorba gradualmente tutta l'energia che hai generato. Poi, con i tuoi tempi riprenditi. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.